Le strade interne code lunghe. Non abbiamo preso l'autostrada, abbiamo l'arriciato, perché l'hanno pagato. Altenza intelligente. Bontate il San Paolo, caricate seriamente, che ce ne ha. Si è capito dove andiamo. È un posto che ti è sempre piaciuto. Tu lo senti perché sono tornato da Roma. Una bella vacanza tutti insieme. Come sta a dire? Ho scoperto che questa ragazza sta qua. Come è andato il viaggio? Nacchiavaca. Come ci danno i padri. Buone vacanze! Buone vacanze!